Io sono Davide Rossi di Lercio, ringrazio Francesca per avermi invitato, non solo, anche per farvi chiudere, quindi abbasserò completamente il livello. Cioè se avessi volato altissimo, adesso preparatevi a volare molto molto basso. Tutto sulla salute, che non è una cosa facile, perché? Perché fare un morismo sulla salute è molto difficile, non per chi lo fa, ma per chi lo riceve. Perché va a trattare dei temi come appunto le malattie, la morte, che ci hanno toccato tutti e su cui siamo tutti molto molto sensibili. Quindi arriva perennemente il commento, non sono moralista, ma questa potevate risparmiarvela. Sempre, sempre arriva. Però come insegna Ricky Gervais, bisogna scherzare sulle cose brutte per alleggerirle. Ricky Gervais è un comico inglese fantastico, vi consiglio se non lo conoscete, perché far ridere su Marco Valeno a nessuno interessa. È già bello di per sé, non c'è bisogno. Vediamo, vediamo, io ho preparato una serie di notizie e non solo. Partiamo, partiamo subito con una raffica. Sniffa cocaina tagliata con la farina, muore celiaco. Qua perché vi stanno sul cazzo tutti, ridete? Bravi, bravi. Bambino prodigio mischia Coca-Cola, Fanta e Sprite e scopre un nuovo tipo di diabete. Un genio. Medico curante, si ammala di Parkinson e scrive ricette leggibili. Potrebbe essere la soluzione. Ricerca rivela, attenzione, la frutta finta previene le malattie immaginarie. Pensateci, pensateci. Mala sanità, purtroppo tocchiamo anche questo tema. Chirurgo dimenticato nello stomaco di un paziente. Scopre l'elisir della vita eterna, ma è allergico a un ingrediente e muore. Ora, arriviamo alla storia drammatica, toccante, cieco, perde il tatto, dopo aver letto un libro di Fabio Volo. Eh, non c'è da ridere, è triste come cosa. Virus, Zika, contagiati, già due milioni di ipocondriaci. Questo pieno di ipocondriaci. Ora, torniamo, torniamo al dramma, perché noi li trattiamo, li trattiamo spesso. Tre dicenne in coma, ascolta i modà e muore. E un po' te lo meriti, eh? Si ascolta. Applausi. Un applauso a morto, non è mai successo, bravi. Sappiamo chi siamo. Complimenti. Bene. Salute, avere un infarto riduce il rischio di dover fare attività fisica ogni giorno. Quindi, cerchiamo di vedere le cose positive. Parla l'inventore delle supposte, potevo fare le pillole, ma mi divertiva l'idea. Anziano muore in un incidente stradale, la famiglia non ha dubbi, accusa, l'ha ucciso il vaccino. Ecco, ormai tutto quello che succede. Prima si parlava di cercare i sintomi su Google, che Bertolino ne parlava, cerca i suoi sintomi su Google e scopre di aver perso una gamba. Controllate. Passa vent'anni convinto di essere intollerante a tutto, ma era allergico al cerotto del test. Finalmente, dopo una serie di drammi devastanti, una buona notizia, Maurizio Costanzo si sottoporrà a un trapianto di consonanti. L'ho sentito parlare l'altra sera, si esprime solo a pernacchi ormai, incomprensibile. Viene colto da ictus a un eurisma, la sorpresa gli provoca un infarto. Così succede. Mala sanità, torniamo alla mala sanità. Medico-meopata dimentica una cazzata nella testa di un paziente. Sì, 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 anche questo. Non lo so. Ridono tantissimo. C'era vede con gli omeopati, sì. Pare di sì. Ancora in corso il primo mondiale di cubo di Rubik per D'Antonici, iniziato nel 1987. Sono lì, nessuno li aiuta. Si lecca il dito per sfogliare un libro antico e contrae la peste nera. Veniamo all'ultima notizia per questa prima. Raffica, la mamma dei cretini, rivela voleva abortire, ma i medici obiettori me l'hanno impedito. Ora, questo è un tema che è tornato abbastanza in auge, purtroppo, quello dei medici obiettori. E noi abbiamo deciso di farci un sondaggio. Ora, noi abbiamo lanciato la rubrica sui sondaggi ben consci che non raggiungeremo mai la qualità di quelli di Libero. Libero, che all'indomani del terremoto ad Amatrice ha lanciato un sondaggio per chiedere ai lettori quale terremoto fra quelli degli ultimi 40 anni li avesse scossi di più. Bravi, bravi. Noi siamo molto più modesti, non andiamo a diventare così. Così abbiamo chiesto cosa diresti a un medico obiettore per convincerlo a praticare un aborto. E abbiamo chiesto ai nostri lettori, abbiamo dato una serie di opzioni, e queste sono effettivamente le più votate. L'8% ha risposto, gli spiegherei che non è omicidio e che non verrà intervistato da Franca Leosini. Questo è un bel deterrente, pare, per farlo. Il 21%, ho fatto il test, è tuo figlio. Questo pare che funzioni, eh, pare che funzioni. Pare che funzioni come la terza opzione che ha preso addirittura il 27% di voti. Il bambino è gay. Questo li spinge, li spinge a farlo. L'ultima invece, con la più votata, il 44%, vanno bene 1.500 euro nel tuo studio privato? Così, hanno votato questa? Non so perché, non so perché, non abbiamo votato noi. Ora, le nostre serate sono abbastanza composite, perché abbiamo diverse rubriche. Oggi ho cercato di estrapolare da tutta la scaletta, che dura un'ora e tre quarti circa, tutto quello che riguardava più o meno la salute, in qualche modo. E quindi abbiamo anche degli annunci, che facciamo ogni settimana sul nostro sito, e ne ho portati giusto tre esempi. Questa è la prima, vendo supposta usata, ma tenuta benissimo. Ora, questa è la seconda notizia sulle supposte. Io, cercando un po' di notizie sulla salute, mi sono accorto che ne abbiamo scritte tantissime. Ed è inquietante la cosa. Freud avrebbe scritto un trattato su di noi, probabilmente, e sulla nostra fissazione per le supposte. orchestra filarmonica, cerca ammalati di Parkinson, anche senza esperienza, per concerto di Maracas. Fanno bene anche i medici, che si sono ammalati, hanno imparato a scrivere. Non è che stiamo lì. Andiamo al prossimo. Sono affetto da sindrome di Tourette, cerco medico, figlio di Troia. Non rotti in culo. Urgente, urgente. Pare che lo sia, lo vedete, è molto urgente, è molto urgente. Ora, un'altra rubrica, stiamo facendo proprio un excursus abbastanza veloce, è quella che chiamiamo te l'avevo lercio. Cos'è te l'avevo lercio? Sono tutte quelle notizie, e sono parecchie, in maniera inquietante, sono veramente tante, che noi abbiamo scritto e che puntualmente poi si sono avverate, per davvero o perché la scritte leggo, e quindi non è che proprio sono attendibili, però pare che siano successe. Ve ne ho portato giusto un esempio. Alcune sono molto divertenti, altre sono abbastanza tristi, come in questo caso. Partiamo però da quella vera. Di solito facciamo il contrario, ma qui partiamo con quella un po' più pesante, che ci fa dubitare della bellezza della realtà e delle persone. Il 24 marzo del 2015 c'è stato il disastro della German Wings. Non so se vi ricordate, il copilota era depresso, si è schiantato con l'aereo, ha ucciso 149 persone. Il Fatto Quotidiano, il 9 aprile del 2015, ha dato questa notizia. German Wings, donna, si finge parenti di una vittima e vola gratis in Francia. Ora, voi direte, perché? Cosa c'entra questo con la salute? C'entra. C'entra perché noi, tempo prima, a dicembre del 2014, avevamo scritto una notizia su un altro dramma, che era successo questa volta in Italia, l'8 dicembre del 2014. Per la precisione, è morto Mango, Mango stroncato da un infarto. E noi non abbiamo scritto nulla in quel momento, perché non ci sembrava il caso. Poi non era un personaggio controverso, quindi non c'era motivo di fare battute sulla sua morte. Però il 9 dicembre è morto il fratello di Mango. Noi non abbiamo scritto niente, a fatica però in quell'occasione. Stiamo legati, perché poi è morto anche lui per complicazioni legata al cuore. Quindi è una roba che stava diventando surreale. Cosa succede il 10 dicembre? Che durante la veglia di entrambi i Manghi, il terzo Mango e il quarto Mango stanno male e vengono ricoverati in ospedale. Quindi a quel punto ci è sembrato legittimo scrivere. E abbiamo scritto questa notizia. Si finge parente di Mango per saltare la fila al pronto soccorso. E questa è del 17, quindi mesi, mesi prima di quella. Non so se gli abbiamo dato noi l'idea, non lo so, non ci voglio pensare. Voi avete riso, avete riso perché è passato un po' di tempo. All'epoca ci hanno abbastanza bastonato per questa cosa, non capendo che poi in realtà non c'entrava Mango, c'entrava il malcostume italiano di cercare in tutti i modi di saltare le file. Quindi questo è molto divertente, secondo me. Ce ne sono altri, di esempi, sono tantissimi, non sto per elencarveli tutti. Si va veramente dal Papa che bestemmia, che poi è successo, non lui, ma uno nella radio dove c'era, a delle partite di Twister che finiscono in modo molto divertente. Ma se venite la nostra serata poi vedrete tutto. Abbiamo anche una serie di notizie che vanno assolutamente accompagnate da un'immagine per essere capite, altrimenti non funzionano. Vediamo, vediamo se è così, ce lo siamo sognati. Può anche essere. Ippoterapia, abbattuto Sinder, il cavallo che prendeva in giro i bambini autistici. Vedete? Un essere spregevole, come potete capire dall'immagine. Ogni tanto cambio l'immagine del cavallo, perché ce ne sono un sacco che ridono, quindi è bello anche cambiare. Ora, sapete che il Ministero della Salute ha dato il via libera ai nuovi pacchetti delle sigarette, quindi immagini scioccanti, decisamente scioccanti. Quello che forse non sapete è che il Ministero della Salute ha dato il via libera anche alle immagini scioc sui pacchetti di sigarette e di cioccolato. È inquietante averli tutti e due dietro raddoppiati, quindi sembrano 18 persone, praticamente, alle mie spalle. Vediamo la prossima. Salute. Ogni anno l'obesità uccide 6 milioni di polli. I giornali non ne parlano. Fidatevi di noi. Li uccide, li uccide. Vediamo il prossimo. Chirurgia estetica. Labrador si opera 13 volte per assomigliare al commissario Rex. Operazione riuscita, direi, come potete vedere. Ora, voi ridete. Questa è una delle notizie che, ahimè, anzi no, perché poi li sfruttiamo, è stata presa per vera, come potete vedere dai commenti. Ma se il proprietario aveva delle fisime, perché non si operava lui da mettergli un po' di letave nella testa per colmare il vuoto che c'è? Secondo me lei l'ha già fatto, eh. Quello che scrive l'ha già fatto, secondo me. Prenderei il veterinario che l'ha operato, lo ammazzerei di botte. Alcuni in posta ci hanno chiesto l'indirizzo del veterinario per andare a prendere. Tutto molto divertente. A chiudere questa diatriba, che poi è andata avanti per un paio di giorni, è arrivato un genio, un nostro lettore geniale, che ha commentato così, io il mio gatto l'ho fatto così. Non male, non male, non male. Non lo paghiamo, gliela rubiamo tutte le volte questo commento. Ora, appunto, i commenti, i commenti sono una parte abbastanza importante della nostra, diciamo, espansione. Tant'è vero che noi siamo diventati famosi, tra molte virgolette, quando Repubblica, o meglio XL, l'inserto, allora inserto di Repubblica, che poi ha chiuso, mi piace pensare, grazie a noi, ha preso per vera una nostra notizia, che era errore nel sistema operativo Radio Maria passa in Megadeth. Credibilissimo, non ridete, poteva succedere a tutti i giornalisti. L'hanno presa per vera, tanto che il direttore di Radio Maria ha dovuto smentire ufficialmente questa cosa, citando anche i gruppi che avevamo nominato noi, i gruppi dead metal, orribili. E noi da quel momento siamo diventati molto più conosciuti rispetto a quanto eravamo prima. Appunto, i giornali. Voi direte, Repubblica avrà imparato? No. Partiamo da questa immagine, per poi arrivare a una notizia che c'entra con la salute. ride, non si sa, non c'è nulla, ride, si ride dopo, però vabbè. Allora, questo cos'è? Orrore Isis, decapitato con la maglia del Napoli. Questo era un povero soldato iracheno, un poliziotto iracheno, che purtroppo è stato poi decapitato, effettivamente. Ora, su questa immagine non c'era nulla da dire. Però il giornalista ha pensato, perché non costruirci una bella storia, ricamando un po', no? E quindi ha scritto che non si tratta di un ulteriore messaggio intimidatorio diretto al nostro paese, solo un caso, dunque, che la vittima indossasse la maglia del Napoli. Particolare, probabilmente, dovuto al fatto che in quelle zone lavorano diverse associazioni umanitarie, tra cui la Ollus dribbla la povertà, che distribuiscono divise delle squadre più famose del mondo. Ora, tutto molto rassicurante, tutto molto bello, tutto molto falso, anche. Perché questa dribbla la povertà era nostra, ovviamente. Era in questo articolo scritto un anno prima, quindi aveva avuto anche tutto il tempo di controllare, non l'ha fatto. Un'altra vittima repubblica, sempre noi. L'avranno tumulato, penso, il pomeriggio stesso, questo giornalista. Cosa diceva quest'articolo? Parlava, appunto, di questa Ollus, c'era l'intervista fasulla all'inesistente fondatore, che si occupava di portare, appunto, magliette in zone più sfortunate, in zone di guerra, perché lo faceva? Per insegnare lo stile di vita dei calciatori a questi bambini, che altrimenti sarebbero cresciuti con valori sbagliati completamente, quindi cercavano, no? Si citava, eh, Cristiano Ronaldo, i Calypso Boys del Manchester United, insomma, Vieri, Inzaghi, no? È l'unica speranza per questi bambini di avere un futuro, noi rendiamo soltanto più chiaro il loro percorso. Ora, noi abbiamo fatto presente sulla nostra pagina alla Repubblica, perché non potevamo lasciarlo online, questa cosa, quindi abbiamo fatto presente che era preso da un nostro articolo, che nessuno si era premurato di controllare. E, difatti, Repubblica che usa l'ercio come fonte, storia di una figuraccia. Per noi poteva finire qui, perché non abbiamo calcato la mano, abbiamo veramente soltanto fatto presente questa cosa. Però, cosa è successo? Che è arrivato Beppe Grillo, il nostro amico Beppe Grillo, che ha lanciato l'hashtag Io non leggo Repubblica perché usa l'ercio come fonte. Quindi, panico tra di noi, perché adesso cosa facciamo? Cioè, ci sta usando per la sua campagna diffamatoria. Cosa facciamo? Scriviamo un post anche contro Grillo. Erano sudatissimi quel giorno. Beppe Grillo ha deciso di attaccare frontalmente Repubblica, creando anche l'hashtag Io non leggo Repubblica. Volevamo dire a Beppe Grillo che ci divertiamo di più quando siamo noi a farlo parlare di Lercio e riportavamo due nostri articoli con sue false dichiarazioni. Oppure, quando l'aggregatore della Casa Leggia e Associati, Zezè, prende per vere le nostre notizie. Comunque, noi leggiamo Repubblica, noi leggiamo il Boc di Grillo, noi leggiamo pure la Croce di Adinolfi perché altrimenti non riusciremo a prenderli per il culo. Ora, voi vi chiederete qual era questa notizia che hanno preso per veri quelli di Zezè. È una notizia molto, molto più credibile di quella di Dribble alla povertà che era questa. Si sveglia dal coma dopo vent'anni e si stacca la spina. Può succedere, può succedere. Ora, la cosa divertente era il corpo dell'articolo che Zezè ha ripreso quindi c'è dimostrando di non averlo neanche letto perché l'articolo diceva già il paese, abbiate grappa, uno qualche dubbio se lo pone. Sono ancora sconcertati i genitori di Mobast, Mobast era il nome. Il diciassettenne che giustamente dopo vent'anni di coma si risveglia si è tolto accidentamente la vita e un ultimo disperato guinzo vitale. Il giovane era costretto in stato vegetativo da oltre vent'anni pur avendone diciassette non sono scemi dal giorno in cui soviuva un'orribile fatality da sub-zero giocando a Mortal Kombat 2. Molto credibile, no? Come cosa. Anche in questo caso è soltanto una di quelle che ci sono capitate ad esempio c'è successo con Cracco che è stato bersagliato dagli animalisti per un nostro articolo che era la sua ricetta pasquale l'agnello condito da vivo la sua specialità e vabbè lì è stato molto divertente perché poi lui ha scritto un post in un italiano stentatissimo in cui diceva che non capiva perché tutti lo stessero bersagliando e lanciava l'hashtag niente di meglio da fare metteva anche l'hashtag Carlo Cracco perché magari si dimentica di come si chiama noi gli rispondevamo sotto dicendogli che comunque eravamo un sito che faceva notizie satiriche false e d'altronde su di lui c'erano un sacco di bufale che giravano tipo quella che lui faceva le patatine in busta alla pubblicità non l'ha presa benissimo e abbiamo chiuso tutto quel post dicendo dai chef facciamo pace andiamo tutti a cena da cannavacciuolo offriamo noi dopo due commenti è arrivato il commento di cannavacciuolo che si è inserito nella discussione dicendo che avrebbe reagito la sua maniera dandoci una pacca sulla spalla che visto quanto è grosso non so se era una minaccia o cosa quindi avete capito un po' cioè il problema è legato a tutti sia all'informazione sia alla gente che prende per vere le cose sia a quelli che si offendono quindi è un po' un terreno minato ora per chiudere un po' il cerchio diamo un po' di notizie che non c'entrano nulla con la salute perché abbiamo visto che veramente a parte che ce n'erano altre dieci sulle supposte ripeto cioè potevo fare un TG solo con battute sulle supposte una roba indecente lo farò presente alla prossima riunione di redazione perché non se ne può più bene partiamo partiamo un po' macchinista fa arrivare il treno in orario e viene denunciato per apologia del fascismo musica musica parliamo un po' di musica che non l'abbiamo toccata ovviamente il maestro Muti fa suonare il telefono per ritrovarlo dieci minuti di applausi meritati meritati Amy Winehouse si riprende dalla sbornia del 2011 e si accorge di essere stata sepolta questa gente si incazza ancora adesso quando la scriviamo è vecchissima allora si incazzano ancora adesso neonazista scambia un hipster per un ebreo ortodosso e lo massacra di botte la prossima l'abbiamo scritta a ridosso della strage di Charlie Hebdo che ci ha toccato abbastanza visto quello che facevano e che fanno tuttora testimoni di Geova tentano di entrare in un palazzo per fare una strage ma nessuno gli apre ora un argomento discottante attualità Nina Morice si masturba e trova nella vagina 500.000 euro che Corona aveva nascosto al fisco erano lì erano lì Roma Roma ha inaugurato il monumento commemorativo delle poste italiane la fila va avanti va avanti non si accorge che viva necrofilo fa sesso con Patti Bravo un necrofilo che ride sei immedesimato Matteo Salvini mette una conchiglia vicino all'orecchio e sente il rumore di uno sbarco capita ama il prossimo come se stesso e viene arrestato per molestie sessuali ora una buonissima notizia arrestato il super latitante Messina Denaro dal 1993 si nascondeva dentro al gabibbo era lui era lui era lì dentro questa è una di quelle che viene spesso presa per vera lasciano il figlio in auto per partecipare al family day questa facciamo un test di solito oggi per questioni di tempo non lo farò si chiama Vero Olercio e questa la mettiamo sempre e un sacco di gente con i figli dice che è vera la cosa inquietante è che hanno i figli e questo che spaventa non fanno scopare di più Porsche richiama 6 milioni di auto difettose oh Bob Dylan Bob Dylan si parla un sacco di Bob Dylan l'accademia svedese proverà a fargli consegnare il Nobel da Valerio Staffelli sono disperati sono disperati Mosca oppositore di Putin muore per cause naturali questa era un po' così abbiamo parlato di panda prima si è parlato di panda oggi un sacco di panda e anch'io ho una notizia sui panda non volevo essere da meno il WWF rivela i panda non esistono sono solo orse polari con dei partner violenti adesso sapete perché non era vero quello che ha detto del bambù lo fanno perché possono tirare i pugni la mano così non so chi di voi ha seguito oggi ma era per quello era per quello Dio richiama teniamolo qui dietro teniamolo qui dietro che fa è bello fa simpatia Dio richiama 3 miliardi di persone a causa di un difetto di fabbricazione non noi gli altri quelli fuori siamo quasi in chiusura Milano artificieri fanno brillare una borsa di pelle abbandonata ma era Donatella Versace che aspettava un taxi sì sì è ormai è ridotta un po' così i missionari insorgono non abbiamo mai scopato in quella posizione non si sa dove è nata questa cosa ma ci tenevano a rettificare non l'hanno mai fatto quindi basta usarlo una battuta sull'Isis ne fate poche oggi di solito siamo pieni quindi tanto qua non ce ne sono spero 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 l'Isis bonifica una paluda e certi italiani iniziano a vederlo di buon occhio lui forse è dell'Isis mi sta scattando un dossier fotografico manderà poi al califfo bene ora chiudiamo chiudiamo il mio intervento con la notizia con cui chiudiamo tutte le nostre serate l'Accademia della Crusca si arrende scrivete quale con l'apostrofo e andatevene a fanculo grazie 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 a tutti